Argilla bianca più pigmento colorante uguale ingobbio ingobbio più fornetto magico uguale Bellissime creazioni in pochi minuti Bentornati sul canale di ceramica per tutti.it In questo video parliamo di ingobbi, come fare un ingobbio in casa Che cos'è un ingobbio? Un ingobbio è fondamentalmente un mix di ossidi metallici coloranti e un'argilla preferibilmente bianca Di che cosa abbiamo bisogno per creare i nostri ingobbi? Sicuramente appunto di questa argilla bianca sciolta in acqua a formare una barbottina cremosa senza grumi E dei nostri ossidi metallici Gli ossidi metallici sono reperibili alcuni nelle semplici ferramenta E altri, diciamo quelli un po' più particolari, nei negozi specializzati in materiali per la ceramica Vediamo più da vicino come prepararli Allora, come procediamo? Versiamo in una ciotolina un po' della nostra barbottina bianca Aggiungiamo l'ossido colorato che abbiamo scelto In questo caso è ossido di cromo Aggiungiamo un poco d'acqua E misceliamo per bene Vogliamo ottenere un ingobbio senza grumi Quindi, mi raccomando, sciogliamo per bene tutti gli eventuali grumi Se necessario possiamo aggiungere un altro poco di ossido Un poco d'acqua E continuiamo a mischiare Quando l'ingobbio ha ottenuto la consistenza e il colore che ci piace È pronto Io ho preparato questo verde con l'ossido di cromo E questo ingobbio rosso-arancione con un mix di ossidi della colorobbia Et voilà! I nostri ingobbi sono pronti e possiamo vedere come applicarli Andiamo subito a provare i due nostri ingobbi e decoriamo una ciotolina in argilla bianca Se volete sapere come fare questo tipo di ciotoline vi lascio qui sopra in descrizione Il video su come farle facilmente con uno stampo in gesso Adesso andiamo a decorarla In questo caso andrò a utilizzare un pennello con la punta di gomma Per realizzare un motivo simile a questo Partiamo con la decorazione E il risultato finale è questo qui Adesso non ci resta che cuocerla nel fornetto magico Avendo decorato una ciotolina già cotta possiamo impostare una cottura veloce E in soli 35 minuti potremmo apprezzarne il risultato Inseriamola nel fornetto magico Voilà! E procediamo con la cottura Ecco qui che dopo una mezz'oretta di cottura E un'altra mezz'ora per far raffreddare il forno Siamo pronti a prendere la nostra ciotolina Vedete è uscita bellissima con i nostri ingobbi appena fatti Volendola potremmo immergere nella cristallina trasparente E ricuocerla nel fornetto magico Vi lascio qui sopra il video per la cottura a smalto E vi ricordo che il fornetto magico è acquistabile sul sito www.ceramicapertutti.it Avete visto come è stato semplice creare i nostri ingobbi E decorare le nostre creazioni E' pazzesco come grazie al fornetto magico Possiamo vedere i risultati in pochissimo tempo E quindi sperimentare tantissimo E muovere i primi passi nella lavorazione della ceramica Come al solito se questo video vi è piaciuto Mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale Per non perdervi nessuno dei video che pubblicherò sulla ceramica A presto!